Un'opera di James Lee Byers. Un'opera del 1988. Un'opera molto originale, nella tecnica d'esecuzione, nella scelta, nella leggibilità, nei significati simbolici. Inchiostri rossi punteggiano di un disegno sofisticato una semplice candida pelle d'animale. Un'opera di James Lee Byers. Umaggio probabile, se non certo, alla tradizione dei nativi americani. Di quell'artista, che definire concettuale è dire poca cosa, quell'artista sfuggente, saldamente ironico, e di cui così tanti sono stati innamorati, seppur senza incontrarlo né conoscerlo, egli stesso si era definito Il più famoso artista sconosciuto del pianeta. James Lee Byers. Una sua opera originale, 1988, provenienza dalla Michael Werner Gallery. Il più famoso artista, che definire concetto di un'opera 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 Grazie a tutti.